Per non perdere gli episodi della stagione, iscriviti al canale e attiva la campanellina. Ogni lunedì ci possiamo trovare in live per parlare di mindset, farci domande dirette e confrontarci sui temi a voi più affini e stimolanti. Per sapere dove collegarvi, venite sul mio profilo Telegram, trovate il link in bio di tutti i nostri social. Chi volesse iscrivermi può farlo attraverso LinkedIn, Luca Casadei o Instagram One More Time Podcast. Io sono Luca e questo è One More Time. Ciao Roberto, partiamo dall'inizio, intanto ti chiedo, hai mai sentito, hai mai visto una puntata di One More Time? Non voglio deluderti. No, è solo che così almeno sei pronto a quello che andremo a fare. No, a me piace però il tuo modo di approccio e dice non ti dico niente, andiamo rotta libera come viene bene ed è fare per i miei denti. A me piace molto sta cosa, anche se non l'ho mai vista. È quasi come se fosse un documentario, perché è un po' come c'era una volta che partiamo proprio dall'inizio. Quando nasci? 20 febbraio 1953 a Milano in un piccolo paese che non è nel limite, non è più il pello, proprio perché erano quattro case, si chiamava l'isola. Quasi, non è sì. In un altro posto a sé. Il limite è già piccolo, l'isola erano, anche a scuola, era quasi, non vergogna a dire arrivo dall'isola, ma erano quelli emaginati non dalla città, dal paese. Nel paese più piccolo, l'inito, c'era l'isola che erano quattro case e mio papà e mia mamma avevano la merceria in questa isola dove aveva quattro clienti e mi ricordo, non voglio banalizzare, ti dico ciò che sento, mi ricordo sempre su un bancone un metro in legno. Cosa serve il metro in legno? Prendi i gessetti e prendi le misure? Ok. Adesso scusa, tu dici, dici quando è un altro e parla del metro in legno. La mia fantasia era regata, eh lo so, a un metro di legno. Da bambino vedevo sto coso, io lo usavo come spada e mia mamma mi aveva le botte un po', qualche chiapone l'ho preso. È vero, è il suo strumento principale. Ok, chiaro. Mio papà Diego è un contadino come la mamma, arrivano dall'Oltrepopavese e ha preso sta merceria e mio papà ha smesso di vangare le vigne e a lui piaceva vendere e si è improvvisato rappresentante dell'omino bianco. Quanti anni avevi quando lui switcha a mestiere? Io avevo sei anni, sette anni. E cosa ti ricordi del mestiere da contadino? Che ricordi hai da bambino rispetto a quella vita? Da bambino ho un ricordo, vedevo mio padre quando tornava su quel carretto dell'asino e io da bambino ero su questo carretto e mi ricordo la vendegna fatta pigiando l'uva con i piedi e mi chiamavano lo zingarello perché io ero un morettone, morettone vispo, non cattivo, vispo, casinista e già allora facevo un po' tribulare. Io papà allora non mi lasciava giocare con i bambini quando potevo, facevo disastri e dice ben come sul carretto e seguivo lui in campagna. Sei figlio unico? No, due sorelle, Lucia e Stefania più grande, una a 80 anni l'altra a 82 e ricordo l'infanzia con le sorelle dove Lucia mi faceva da mamma non da sorella perché mia mamma era un po' presa ed era una persona un po' particolare nel senso che non sopportava tutti i miei casini e allora doveva lavorare e la mamma era la Lucia e non era mamma Anna in poche parole. Come fa tuo padre a trovare il coraggio a cambiare vita dai campi, dalle vigne, a fare il venditore ambulante? Perché portava del vino da San De Mancolle su una giardinetta che le dava mio nonno. Cos'è una giardinetta? Una Fiat giardinetta, una Fiat familiare, una 500 familiare con i bordi in legno e metteva il vino sul portabacchi e scendeva giù, si diceva andiamo in pianura. Ah, quindi era già abituato, lui vendeva il raccolto, quindi già vendeva, aveva il rapporto con il pubblico, cioè con le persone, no? Con le persone, con i milanesi da San Damiano a Colle andava a vendere questo vino e lì ha conosciuto un signore, è una persona che si faceva volere bene, nel senso che faccioccone, non ha perso i 30 chili, li ha sempre tenuti e questo gli dice, senta, è lei che è una persona per bene, vuole smetterla con la campagna, gli trovo una casa qua, io ho la contenzione di un detersivo, la Montecattini Edison aveva un detersivo in scatola, l'omino bianco, sono qua anche questa roba, prima il metro, poi l'omino bianco, vendemmo questo detersivo e gli ha detto, ti propongo di fare un giro, cioè ti do delle drogherie, questo era il giro, non c'era supermercati, cambia vita e lui dice, sì ma se cambio vita devo portare tutta la famiglia a Milano e siamo arrivati a Limito, ecco, a Limito dove la mamma ha aperto questa piccola merceria, ma roba a quattro bottoni e due spaghi e lui si è preso una Vespa con doppio portapacchi, perché la macchina non era la sua, gliela davano per fare il giro del vino, il 500, l'immagine su questa Vespa, portapacco davanti, portapacco dietro, mio padre guida, io in mezzo alle gambe davanti, portapacco davanti, Lucia, portapacco dietro, Stefania. E quindi tu lo vivevi mentre vendeva? Quando vendeva mio papà era, allora, era contadino, ma nel termine buono, il contadino è una persona, magari non ha quella tecnica particolare, ma da simpatia, da credibilità, da genuinità. Allora, questo signor Bondini che l'ha cercato per dargli il giro dell'omino bianco, gli ha dato un piccolo camioncino, perché sennò non poteva andare con la Vespa, no? E io lo seguivo, lo seguivo perché a me piaceva vendere, no? Andavo nelle drogherie, entravo dentro, rompevo le palle. Dicevo, ma secondo me questo signore puoi vendere di più, perché... Avevo iniziato a capire che dava dei cartoni di tersini, pensa c'era una drogheria, andando, vendevo una scatola con 12 di tersini e usciva contento, io potevi dargliene di più, no? Magari provo a insistere, e lui è tizze juan, è un termine piacentino, tizze juan, vuol dire sei giovane, stai lì, cosa vuoi capire, no? Fino al punto che aveva una piccola riserva di detersivo in cantina, temporale incredibile, bagna la metà del detersivo, disperato, lui adesso è rovinato, doveva dire al signor Bombini che le dava questa materia da vendere, che si è allagato, eccetera, e il signor Bombini gli dice, non si preoccupi signor Diego, lo consideriamo nullo, gliene mando dall'altro, l'onestà mio padre ha capito, allora gli dico, papà, quando arriva quello nuovo, mischialo con quello bagnato, non mi sono reso conto che gli ho praticato, ma così, l'ignorante, il 3x2, perché l'abbiamo insacchettato in cose di celopan, quello in omaggio, che è la metà, la metà arrivata, si è giugata, l'abbiamo mischiata, l'abbiamo buttata di lì a niente, e l'altro segherino gli dicevo, papà, adesso gli dai, non due seghetti, non due seghetti, tre, gli dici che uno gli hanno regali, lo vendiamo tutto. Quindi ti sei un po' inventato il 3x2. Sì, ma l'è venuta così, non so cos'era. Quanti anni avevi quando hai fatto questo ragionamento? Otto anni. E quando i tuoi amici ti chiedevano che lavoro fa tuo papà, come glielo raccontavi? Eh, gli dicevo, mio papà gira con il camioncino, ben detersivo, nelle drogherie, io dicevo, però, lo rivalutavo di più. Dicevo che mio papà faceva irrappresentante per una grande azienda. In realtà ero un editore ambulante di detersivo. Ed eri orgoglioso di lui da piccolo? Molto, molto, perché lo vedevo soddisfatto. Insomma, adesso, tra andare a bangare le vigne, e girare con un camioncino, seppur vecchio o meno, e vendendo detersivo, per me era il rappresentante della Montecatini, poi invece era un distributore di detersivo. L'affetto con i tuoi genitori, cioè, ti dicevano che ti amavano, ti coccolavano, come funzionava il rapporto? Eh, mio papà mi ha dato, lo so che non è forse bello, non è una critica che faccio mio papà, è quello legato tanto, ma mio papà forse mi ha dato qualche sberna in più. Anche suo padre l'ha educato così, secondo te? Secondo me sì. Non è che mi maltrattava, eh. Certo. Però quando gli partiva la biglia, mi menava, eh. Perdeva il controllo. Sì, mi menava. Schiappone ma forti. Schiappone ogni tanto, non so, vedi io sono combattuto. Ma tu ti sentivi un po' umiliato quando succedeva? Umiliato no, però secondo me qualche sberna in più del tuo butto poteva evitarla, sebbene non avevano da morire. A volte mi rionevo un po' male. Le tue sorelle invece niente? No, meno, molto meno. Questa cosa, adesso non so, perché tu me la tiri fuori e sono io che volontariamente… Anch'io nella mia vita dove mio padre si toglieva la cintura e mi cinghiava quando esageravo, quindi… Eh, io non l'ho detto, ma si toglieva. Sì, succedeva, succedeva con le belle… Sì, ti lasciava i segni, dovevi dire che eri caduto agli amici a scuola per non fare brutte figure. Sì, io ero un po' un disperato, nel senso che… Sì, provocavi, anche tu eri… Provocavo, non eri, io ero un santo di… Lo so, per esempio, io le vacanze le facevo da mia zia in campagna, mi lasciava lì, allora la scuola finiva a fine maggio… Sì, nel Piacentino. Nel Piacentino partiva con sto cavolo di macchinetto, mi lasciava lì e veniva a prendermi al 15 settembre. E tu cosa facevi tutto il giorno? Cosa facevo? Ammazzavo le galline a mia zia, alzoppavo l'asino, rubavo biciclette giù per le colline, mi scassavo tutto e l'unica che mi teneva era una zia giovannina che nessuno mi voleva tenere, mio padre mi liberava proprio, andava di casa in casa dicendo ai miei parenti chi è che lo tiene qua? Non so se ridere o se piangere. E sempre la speranza, la giovannina, lascia il chi, dai, lascialo qua, che aveva già tre figli sta donna, anzi due, Roberto e Sergio, miei cugini, e lei mi teneva tre mesi lì. Ho fatto tutta un'infanzia lì dove giocavo a pallone, anche qua è incredibile. Avevi gli amici quindi? Sì, conoscevo tutti lì, ragiona, figurati. Mi chiamavano Ganassa, perché giocavo a pallone, giocavo bene, li prendevamo per il culo. Ho in mente il campetto da calcio del Don Luigi. Dell'oratorio. Dell'oratorio. Chiesa, collina, il campo, la porta era giù e uno era su. Chi mi giocavi? Il primo tempo è in bici, il secondo in salita, ma è una cosa mai vista al mondo. Incredibile. Ho fatto l'infanzia lì e anche il chirichetto. E quindi poi cresci? Cresco, cresco. Come vai a scuola? Ero bravo a scuola. Ti dico come? Davo un tema alla maestra, la signora Bonsignori, mi arrappava sta maestra. Ok. Ma ti spiego perché. C'era sta catena con uno spazio così, e mi ricordo questo oratorio di gente che appoggiava le gambe lì e in prima fila ero incantato a guardare. Tipo i film di Pierino dovevi vedere. Sì, sì, e mi diceva, cosa guardi? Niente. Dietro la lavagna. E devo dirti che quando dava i temi qualcosa, io finivo velocemente, rompevo le balle agli altri, ed è in castigo dietro la lavagna. Solo che succedeva questo. come lei andava in bagno, io dietro la lavagna, scrive il risultato del problema, come le usciva, giravo e tutti copiavano. Come entrava, rigiravo la lavagna. Quando l'ha scoperto, mi mandava in bagno e mi lasciava la mezz'ora. Era un bambino un po' così, devo dire, questi ricordi, però a scuola non andavo male. Tra me, cambiavo anche lì, fa ridere, però io portavo i giornaletti, li cambiavo con l'altro, mi ricordo il monello Yet, e c'era una serie di questi giornaletti e io un po' li rubavo, un po' li cambiavo, un po' li sminavo, ed era un cambio sempre. Già nel mondo delle trattative. Sì, ero in trattativa, già fino a poi. A quanti anni? Fino alla quinta elementare. Poi arrivano le medie, no? Medie, via a limito, e i primi tre mesi, le prego medie, le ho persi. perché sono volato da una pianta, forse ho picchiato la testa, non lo so, se ancora oggi sono nelle sedi. Mi ricordo, andavamo su un ramo, e 4-5, e su, e ma su, arrampicati, e giù, finché si è spaccato, sono volato giù con la testa, rimasto bloccato, portato all'ospedale, poi mi sono ripreso, ma un colpo così, sembrava che la spina dorsale, poi si è rimessa a posto, fatto tre mesi a casa. Wow. E così cominciano le medie. E così cominciano le medie, e ti dico, ma non so perché, mi viene in mente questa cosa, e te la dico, un fosso, che andava tra l'isola e l'ibito, io mi ricordo sempre questo fosso, giocavamo, pensa che allora, c'era niente, no? Chi lanciava la cartella più lontano, da qua, al di là del fosso, il fosso era largo, un 2-3 metri, quindi, chi la lanciava lontano, vinceva, chi la lanciava, sbagliava vicino al fosso, no? Perdeva, e c'era la castegnaccia, con la liquirizia, ci respirava la castegnaccia, e allora pagava la castegnaccia, mi ricordo 10 lire, vabbè, solo che, quando lanciava il mio amico, Albani Gabriele, io lo disturbavo, perché volevo sempre vincere, solo un paio di volte, lo disturbavo male, e la cartella volava del fosso, non dall'altra parte, bagnati, libri, caverni, e poi c'era questi dispetti un po', un po' stupi, però si è divertito, pensa che adesso, alla stessa età, stanno davanti al cellulare, completamente in ipnosi, quindi sono, fino a che età studi? Io ho fatto la terza media, poi, mio papà, devi studiare te, perché, non puoi fare, la classica frase, vorrei mica fare la vita, che ho fatto io, e allora vai, all'istituto tecnico di Melzo, dove il professore Fiorentini, ma che memoria che hai, Fiorentini mi ricordo, che era un ingegnere bravissimo, dove si studiava perito meccanico, e ho questa immagine, mi ricordo che si studiava trigonometria, seno, coseno, tangente, tangente, matematica, lo studio degli angoli, due palle, una cosa, però, passo il primo anno, botti super, al secondo, bellissimo, da casa, e dico, bravo, vai bene, non vado bene, non vado più a scuola, mi ribatto una centra, di quelle, ecco lì, mio padre Diego, che ho amato, dove intanto, mi arrabbio se ci penso, botte, e io non vado a andare a scuola, va a scuola a parlare, e gli dice il professore, Fiorentini, ingegnere, questo ragazzo è intelligente, ma, apprende velocemente, ma non, non vuole studiare, non ha voglia, non ha voglia, non ha voglia, allora mio padre dice, non ne voglia, bene, adesso vai in collegio, ma te che magica, amico mio, mi manda, a Crusone, in Val Seriana, dai Salesiani, io dai Salesiani, dopo il mattino, cinque preghiere, facciamo il, digiuno, ma te che immagini, io ero lì, dai Salesiani, ho passato i primi tre mesi, ah ti ci ha mandato, mio padre, mi ha preso, mi ha portato dai Salesiani, e tu stai lì, impari cosa la vita, devi studiare, perché sei intelligente, va bimba bimba, avevi sedici anni, sedici anni, neanche, quasi sedici anni, bene, sette giorni, otto giorni, un mese, dimagrisco, sto male, infermeria, un collegio, ma tornavi a casa il weekend? No, no, vedevo l'ora a trovarmi, dove, ma non esiste, allora, il weekend me lo son procurato io, mi son preso un bel treno senza biglietto, il mio padre apre la porta, sembra che ha visto l'apparizione della Madonna, Safecchi, lui, aveva due modi di parlare, l'italiano ha masticato male, quando era appena appena arrabbiato, il piacentino quando era incazzato nero, e allora, se mi avesse detto, cosa fai qua, avevo un tono di compartimento, avevo qualche speranza, ma quando mi guardava e diceva, Safecchi, cosa fai qui, è successo il disastro. Non avevi paura? Proprio perché prendevi le botte, però lo affrontavi sempre alla fine? Sempre, sempre. E in quel caso che succede? E succede che mi ha menato un po', e l'ha accettato. E l'ha accettato. Basta, hai smesso. Basta, smesso, e sono andato a lavorare alla Comunt, oh, cablaggi elettrici, bellissimo. L'ha trovato lui il lavoro? No, l'ho trovato io, l'ho trovato io, sono il campanello, e dopo di, vada, Dream, cosa vuoi? Cerco lavoro. No, niente, siamo a posto. Sì, c'è, bom. Vado in questa azienda e mi dice, sapete che chiamo il capo? Chiama il capo? Mi dice, va bene, dai, vieni dentro. Non è che l'ha andato a prova. Senza troppa procedura. Vado dentro, e cablavo i quadri elettrici per la Marina. Non sapendolo fare, ovviamente. Ma no, prima mi ha fatto pelare i fili per un anno, poi me le hai fatti collegare dopo un anno, un buon anno e mezzo, mi ha detto, adesso cominciamo a fare i salametti dei fili. Quanto era il tuo stipendio a 16 anni? Allora, a 16 anni prendevo 56 mila lire. Ok. E ti ricordi più o meno quanto era lo stipendio medio in quel periodo? L'opera specializzato prendeva 80-90. E davi dei soldi a casa rispetto al tuo stipendio? Dei soldi a casa, stipendio, ma assolutamente, a papà Diego i soldi. Ah, non prendevi niente di questi soldi? No, mi dava la mancia, ma non esiste che ne era lo stipendio, ma non esiste al mondo. Ok. Stipendio a casa e quando ti sposi poi ci penseremo noi. Peggio che andare di notte, con i debiti. Vabbè. E questo per quanto tempo? 16, 19, 20. Poi militare che l'hanno fatto, perché mio padre poi era passato in invalido, allora in invalidità il maschio stava a casa, e poi sono andato alla SISAS, Società Seria Acetica Sintetica Italiana. Avevo 21-22 anni, analista chimico. Mi ero rotto le ballerine. Come lo trovi quel lavoro lì? Suono il campanello. Sempre così. E c'era questa azienda famosa, la SISAS, dove io abitavo, vicino a Lino Isola. Suono il campanello, passa via, Reschini, che era il capo chimico, e dice, che bello il piede questo è. Cosa c'è? Chi lavora? Sei a casa? Sì. Cioè, metto nel laboratorio. Analista chimico, ho fatto un corso serale, perché producendo ossigeno, accetta di vene, accetta di andate, si analizzavano dei fumi, delle cose, per dire se le calda erano a posto, eccetera. Ho fatto laboratorio, laboratorio, poi non ce la facevo stare in giusto. Era un bel posto questo. E allora lì scatta la scintilla. Leggo sul giornale. Ultinazionale. Nel campo dei tradomestici cerca capo area, capo area, bel coraggio. Ma io vado. Capo di te stesso. Sì, esatto. Arrivo e mi dice, facciamo la prova, ti piace vendere. Poi mi ricordo che l'annuncio diceva anche qualcosa tipo senza confini. Bravo, la zona non ha limiti, dipende dalle tue capacità. era il classico porta a porta. E lì ti dico, ringrazio Dio. E lì hai fatto la palestra vera. La palestra. Lì ho fatto le Olimpiadi. Perché mentre qualcuno faceva questo lavoro per ripiego, si pagava gli studi nell'estate. Io l'ho fatto 11 anni. Ah, wow. 11 anni e da faccette punzioni. A vicecapo. Quello che porta la borsa per fare, l'altro dimostra, tu porti la borsa, capo settore, capo area, ero diventato capo figliare a Monza. Quando sono diventato capo figliare a Monza, far fare agli altri quello che ho fatto io, non me la sentivo. E lì ti faccio un esempio. Suonando il campanello, vedevi di tutto, no? Signora come va? Pieda davanti alla porta. E non funzionava più. Allora mi ero diventato. perché era troppo d'urto, no? L'elettrolus voleva che facevi l'acquisizione, prendevi l'appuntamento, incuriosendo, al pomeriggio andavi a fare la dimostrazione. No. Io mi portavo subito alla porta. E la mia acquisizione la facevo diversa. ma per istinto, no? E ti spiego come. Sul campanello c'era il nome della signora. Signora Mascherpa. Quella faccia. Signora Mascherpa. Sì, apriva. E l'ho letto sul campanello. Che sono un fenomeno, no? Sì, sono io. Ah, signora. Mentre gli altri, insomma, non lo spiavano. Cosa vuole? Io dicevo il nome. Mi è venuta così. E lì rompevi il ghiaccio. E rompevi il ghiaccio. E com'era? Signora, non vendo niente. Io sono pagato dall'azienda praticamente pulire un pezzo di casa in modo tale che un domani se ne fosse voglia lo può prenotare ma non è in vendita. È solo una fase dimostrativa. Ah, però io ho un tappeto che andrebbe pulito. E allora le facevo la dimostrazione il cavo rientrava praticamente il motore era coibentato la silenziosità per non dare fastidio a quello vicino, eccetera. Riunione di famiglia. Stiamo neppurisco anche di là. Ma suo marito quando arriva? Ma perché? Perché guardi non sono in vendita ma pochi pezzi per e piazzavo. E vendevi tanto? E vendevo tanto. Abitavi ancora con i tuoi? No. No, sempre con i miei abitavo, sì. Ed avevi ancora lo sipegno in casa? Eh, no, lo ottenevo io lì. Lo ottenevo io perché poi... E come andavi con i risparmi? Quando hai cominciato ad avere l'autonomia di gestire i tuoi soldi come li gestivi i tuoi soldi? Male. Perché lì giocavo. Tu ti mi presenti che allora e qua è l'inverso della common dell'elettricista. Lì 56 mila euro. Adesso hai 30 anni mentre mi stai parlando. 30 anni, 28. Bravo. Lì la vendita ti riusciva a stare 8-9 anni e capivo questo modo di vendita. Mi vergogno quasi a dirvi che allora se prendevano un milione e due al mese in lire potrebbe proporzioni io dovevo prendere 5-6 milioni all'ora vendevo l'inverosimile a un certo punto succede una cosa bestiale in Italia rapiscono Aldo Moro le Brigate Rosse era inutile che andavi in giro non ti aprivo neanche il cancello un terrore incredibile allora c'era questo mio amico che riparava roulotte io un giorno sono là disperato e dico avevo guadagnato il mondo porco giura cosa posso fare e si è accesa una lampadina e dico Alvise Bacchi Alvise Alvise senti una cosa rido per i cognomi perché sei incredibile no che te li ricordo tutti dico Bacchi ma ascolta lui faceva il pavolo con il papà era bravo anche quello lì quando l'hai ritirata mi ricordo 150 mila lire niente era tutta rotta perché anziché dove si entra nella porticina la tagli con la fiamma e gli fai uno sportellone così davanti ma cosa ti hai in fede che la roba che cosa fai sta roba fammi sta roba era il tuo primo teatro era il mio primo palcoscenico ma di vendita ovvio perché avevo uno squalo te l'hai presente lo squalo la macchina lo squalo era Citroen quella che si alzava no? mamma mia già io nero con la tresta sto squalo sembrava il più di a capone davvero allora mi sono andato a mettere un gancio da bielli demolizioni bielli demolizioni mi ha messo il gancio e ci ho messo dentro il mio aspirapolvere con una macchina del caffè perché andavo nelle sagre paesane alla sera la festa dell'avanti la festa dell'unità la festa di chi vuoi tu non mi interessa e chiedevo posso mettere qua a oprire il caffè alla gente ma per l'amore del cielo allora a un certo punto andavo prima perché poi partiva la musica e dovevo gridare dovevo gridare se non mi sentivano ora ecco perché signora guarda aprivo il mio sportellone passavo via con la salamella con i tacchi della ballerina le donne con la famiglia ci ho messo una pedale in legno e mentre facevo il caffè venivano vicino con una salamella gli ero primo quando ero vicino schiacciavo l'aspirapolvere tiravo le guance tiravo sulla gonna sul ginò perché aveva un motore maggiorato il dimostrativo oh madonna come tira tira tutto qua tira tutto venga signora che e prendevo l'appuntamento in modo che visivamente creavo simpatia sì l'empatia giusto e andavo ascolta questo mi viene da ridere perché l'elettronusco la scusa del rapimento che era il momento era ferma e io portavo ordine e mi dice ma come fai? faccio vendito e gli ho spiegato questa cosa allora l'elettronusco ha creato il tinfiere da questo povero pistola no? il tinfiere hanno comprato 12 roulot li andate agli agenti andavano nelle cose però lì Roberto non si è fermato non vi bastava più un giorno vado al supermercato a Carugate adesso si chiama Carosello prima c'era un altro supermercato che era pieno di gente vado dal direttore Leoncini e le dico se io metto fuori qua la roulotte ho quattro del tutto metti in tv paga la luce dopo due mesi quando mi insedi qua devo mandarti via questo fatto si vende meno dentro la macchina del caffè compro la tua l'aspirapola compro il tuo e comincio a vedere dei problemi vendevo l'inverosimile quanto guadagnavi in quel momento? tanto ero arrivato anche a 8-9 milioni al mese 10 una cosa quanti anni avevi? avevo 29-30 anni e lì inizia il patatrack perché vado con un mio amico Peppino Cassani vado al Casinò di Campioni d'Italia insomma in quel momento finì presente che un operario guadagnava un milione un milione non di più 9 volte tanto e il sai guadagnavo abitavi ancora a casa con i tuoi? no mi ero ti stavi sganciando ecco sì ero già con una ragazza che è rimasta incinta del primo figlio primo anno primi due anni più o meno lì siamo lì vado gioco a cosa giochi? alla roulette maledizione ragazzi vinci ok sì ma ti dico come è la più grande sfiga di un giocatore vincere la prima volta la somma dei numeri è il numero del diavolo da Rullello sai vero? da 666 eh io vado ragazzi esce 5 volte il 5 la prima volta che vado io avevo giocato 5-8-11-23 mi ha spiegato il mio amico Cassani che sono numeri vicini si chiama la serie questo sempre beh gioco sti numeri 5 Rouges and Per la madonna Robi hai vinto ma cosa? avevo su 10 franchi 350 franchi ma gioco ancora il 5 ma no ma ma sì è arrivato la nonna pan 5 5 volte il gioco mi prende da lì non mi ho contento da roulette passo al 30-40 allora disastri la voglia di lavorare è scema un po' meno male che succede questa cosa mentre gioco siamo sempre in quegli anni siamo sempre in quell'anno dopo prendo mi manda via da lì nel frattempo da Carugate e dico dove vado un mio amico aveva la mamma che faceva la domestica presso la famiglia innocenti e lì andava a cena un conte che aveva una serie di ipermercati uno dei quali è a Cremona Montedello della battaglia mi disse c'è uno spazio dentro che si ti mettiamo vicino c'è una cabina del telepolo a gettoni se vai a una pedana dove c'è il passaggio della gente ti diamo un posto lì vado lì e mi trovo un prodotto da vendere diverso ah quindi cambi prodotto non lavori più per quell'azienda lì no cambio prodotto ho un idromassaggio una vasca trasparente una pedana in plastica dentro un motorino col tubo bianco fuori dove metto dell'acqua la gente passa dicevano se ero la vasca per i pesci e ne vendo quando va bene lo vendevo a 530 mila lire lo pagavo la metà ne vendevo 5 e lì non era la mecca perché guardavo un milione e mezzo perché vennevi 5 al giorno o in un mese eh 5 al mese un milione e mezzo perché poi i soldi li avevo esauriti li avevi persi tutti 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 e anche qualcosa in più qualcosa in più e quel qualcosa in più dove l'hai preso qualcosa in più devo dirlo eh certo strozzini ma lo strozzino vuol dire che te lo trovavi lì ti vedeva perdere ti si avvicinava te lo racconto allora non giocavo più a campione d'Italia ma andavo a San Ben San avevo quei soldi lì avevo vinto una bella cipra non cambiavo più per giocare quanto avevi vinto eh avevo vinto lì quella volta lì una trentina 40 milioni che era la somma più grande che avevi mai visto tutti insieme mai visti sti soldi ti faccio una domanda visto che il giocatore non gode mai quando vince ma gode di più quando perde non è vivile come hai fatto ad andare via con 40 milioni perché stava chiudendo il casino no 40 milioni è stata una giornata fortunata una delle prime volte ho vinto così hai detto andiamo andiamo chiudiamola bene chiudiamola bene andiamo così e vai a San Vanson è roba bello adesso arriva la disperazione più assoluta vado non gioco più di 2 o 3 milioni alzi la posta alzo la posta perdo 10 vengo a casa ne prendo 10 3 giorni non lavoravano ne prendo 10 non lavoro ne prendo 10 e lì mi dicono mi vedono giocare mi dicono guarda se ne vuoi 10 fai un assegno di 11 se perdi mandiamo giù 11 se vinci quando esci ritiri l'assegno e mi dai solo 500 non so se mi spiego eh sì anziché darmi il 10% di interesse mi dai il 5% per qualche ora bene e allora vado da senza saperlo vado dal capo degli strozzini non posso dire tanto ormai adesso non ci sono più no però non diciamo in quel caso non dico il nome non dico il nome non dico il nome li sono tutti va bene va bene allora mi dai 10 lo perdo vado a casa vendicchio mi faccio prestare i soldi per coprire poi vado a giocare vinco quello lo pago metà e comincia il tormento poi 10 poi non cambio solo da uno che la faccio breve merda totale un giorno dico adesso mi sono rotto le balle sempre al 30-40 giocavi no no il rulletto è 30-40 tutte e due ho questa brillante idea vado su e dico oggi viene dei 20 perché io ho sempre pagato mi li dà ma erano 5 i cambisti vado dall'altro prima che arriva l'altro vado a casa e dico oggi cambio da te nella 20 anche lui fan 40 gli ho passato tutti i 5 e mi sono in tasca 100 wow sono entrato sai quando sei dico adesso recupero tutto e poi gli do non gioco più da 20 da 50 faccio pieni da 100-200 pim pam pim pum pam 4 del mattino stirato perdi 100 milioni 100 esco 100 che non avevi peraltro no non ne avevi neanche il 10% niente esco i 5 strozzini si sono parlati mi aspettano fuori alle 5 del mattino io esco dalla scalinata a San Benzano e loro li guardano viene un po' qua se arriva una pacca di quelle terribili uno prende però aspetta loro dovevano incassare l'assegna avresti potuto magari pagarlo non è che parti bravo poi gli dico perché mi picchi ma ti viene qualcosa fino ad adesso ti ho pagato se no cosa mi picchi bleppavo però sapendo di bleppare ma ma vieni qua uno ti va a porre un'arma chiamata pistola mi dice vieni qua per il culo e prendi chi vuoi mi porto in questo bar e mi dice con cosa sei qua sono qua con la macchina un Mercedes mio dammi le chiavi quando mi dai i soldi ti ridono la macchina cominciamo così ma quanto costa la macchina ho pagato 32 32 milioni sì allora in lire sempre mi dice beh adesso prendo il pulma non vai a casa poi a giorni ne parliamo prendo il pulma mi ricorderò sempre 14 agosto sul pulma una pancia così finita le sigarette 5 e mezza al mattino parto da San Menzan la mia macchina Mercedes Bianco è là il pulma per andare a Milano fa tappa a Santia è presente? Santia è vicino a Milano però con che soldi? no col pulma con che soldi compri il biglietto? ah non è pagato ok è ristirato ma no adesso ti racconto la storia facciamo tappa quando poi salite timbriamo i biglietti così quando andate a Milano scendete sì 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 ma figurati vado al bar con cappucce e brioche questo mi guardo e mi ricorderò sempre lei non è una lira mi dico sì non è una lira mi dico la brioche e il cappuccio ce ne sono due di brioche vieni qua sì 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 cappucce e brioche metti in bocca la brioche mi viene il vomito ho fumato tanto ma cervello in alto esco c'è un cane bianco e nero che mi guarda e mi dico eh sei più disegraziato di me vieni qua mangia la brioche capito la brioche non mi muola più l'hanno abbandonato in un'autostrada ho detto io ti chiamo fish perché fish sarà l'ultima fish che io giocherò vieni come sul bum arrivo sul bum oi 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 alt e il cane qua non sale se non pensi di questo cane ti spacco i sedivi hai già capito era senza soldi ho fatto ancora di più fuori di testa poi quel cane ma chiama chi cazzo vuoi il cane allora c'era una signora distinta che era a giocare mi vedeva a giocare dall'altro tempo e sai che era una persona regolare non sa cosa mi era successo e dice ma Roberto poi ti portavo a casa sto cane è un cane abbandonato pieno di zecche io volo porto a casa a fish pelo lungo eccetera e andiamo a casa e lì comincia la trattativa con loro per il pagamento perché non presentarsi non va bene ma nello stesso tempo succede un fatto strano vado a lavorare a Montenegro la battaglia a Cremona a Cremona a Gadesco Pieve del Mona e in quel giorno appena tornato tu pensa passa via un signore gli vendo gli do un massaggio alla moglie mi dà i 530 mili la sera dico se penso quello che ho perso almeno la settimana comincia bene vado al bar e mi godo sto momento dico penso ho perso 100 qua per 500 sono contento non faccio il tempo di dire così vedo la signora col marito che arrivano al bar ho detto mamma questo qua si è incazzato che gli ho dato una venta le devo ridare i soldi le devo ridare i soldi ma proprio no 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 non voglio niente ma lei mi deve spiegare una cosa cosa ha detto a mia moglie cosa gli ha venduto ma perché noi a casa abbiamo una jacuzzi vera vera cos'è che gli vende sto topo di cosa perché io gli ho detto signore il vantaggio se c'è a mia jacuzzi non si preoccupi la pedana la mette sopra lei jacuzzi può romperci se c'è un dipetto la pedana la prende la porta al mare monta jacuzzi cosa fa sradica il bagno non si può io ho cominciato a ridere ho detto senti io ho una tv si chiama telecollo permette ora di vendere qualche ora al giorno secondo me tu sei il maradona ma tu devi vendere ma vieni in tv da me arrivi in televisione e cambi palcoscenico e volevo capire in quel momento che era un mezzo completamente nuovo perché non avevi la gente che ti esaltava no lì è il massimo lì arrivo lì mi dice prendi la tua vasca vieni quello che puoi qua vendi in tv vendi in tv cosa sta dicendo ascoltami seguimi dottor Barogno prendo vado vado nello studio mi dice cos'è la telecamera ma figurati 1984 85 arrivo lì c'è una signora che sta ponendo lo studio in una cantina con una lampada la telecamera della Bardi la usi come pubblico dietro la telecamera per essere ispirata certo io dico signora si può mettere dietro la telecamera un attimo perché io a chi vendo pensa e lei si si va bene e Barogno si metta lì se non dà pastiglia a lui no a me non dà pastiglia e io mi rivolgo a lei come se fosse al supermercato ma lei vede signora ha un po' le gambe grosse non mi sono reso conto questo modo di comunicare con un mezzo diverso ma usandolo come se fosse in un mercato gridando alla stessa maniera sta attento ti ho detto che vendevo tre o quattro o cinque al massimo al mese al mese allora questo mi dice c'hai un vieni da ridere un centralino oh si perché perché sulla cassetta quella abbiamo registrato nei 15 minuti metti un numero se qualcuno ti chiama vuol comprare rispondi avrai un'azienda no a casa si si un'azienda dell'amazon sai che numero gli do il numero dove io sono al supermercato della cabina telefonica della cabina telefonica mi ricordo sempre mi chiama mi avvisare mi dice guarda che mi è inonda oggi alle 14.07 io in quel momento al nonno lì ascoltami brin 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 diciotto idromassaggi in 15 minuti diciotto per 250 cosa ho fatto ho guadagnato 5 milioni in 15 minuti quanto gli dovevi dare a quello della televisione e prima di dire allora aspetta che arrivo prendo i numeri Eurodabi sì ho chiamato così sono io Eurodabi il direttore commerciale mi dica sì ho visto quel signore che vende ah sì quello che grida prendo l'altra scusi torno in tv mi dice come è andata poca roba perché non poteva controllarlo no certo il numero l'hanno preso io e succede questo lui aveva sentore diverso perché qualcuno è andata a dirgli che c'è quel telefono lì noi abbiamo visto che mi dice senti una cosa si chiama diritto d'immagine adesso se tu mi firmi il tuo documento io la mia tv ti mando in onda e ti do cosa mangia al mese un milione e due io ti do due milioni e mezzo al mese il doppio no facciamo una cosa la tua tv cosa costa allora tu dici a lui a lui mi sono autoprodotto subito 100 mila lire dammi 30 ore questo succede quanti giorni dopo i 100 milioni di debiti dopo una settimana come gestisci quella settimana mentre quegli altri vogliono i soldi ho preso lo squalo sono andato poi mi si è sceso la lampa cosa andavo a dirgli questi qua ho visto una prospettiva ho detto mamma mia tutto è successo in quel momento tutto mamma allora vado lì faccio il contratto non ti dico cosa ho venduto in quella settimana nel frattempo prendo un'altra tv TRS bailate la tv delle mucche da lì vado ti studio tv1 usi la stessa registrazione la stessa cassetta lo succede il delirio il problema quando dopo arriviamo gli strozzini quando andavo a casa a consegnare quello squalo suonavo il campanello ma lei è quello che presenta signora l'azienda l'azienda dice di mettersi la faccia chi vende con sé ma soprattutto io non dormivo di rotte un pacco di soldi così prendo lo squalo e vado dai avevo una prospettiva però non c'avevi ancora i cento milioni no assolutamente sono su con dieci eh sì non è che hai giocato quella sera no no anche perché lì ti marcava una vista no no non potevo entrare abbiamo a sabato ma no non esiste e cos'è fai gli dai due milioni a testa no arrivo lì sì bravo i conti due milioni a testa e vi dico io in sei mesi vi pago tutto bloccatemi non aumentate ti faccio una domanda prego 20 milioni a testa ti hanno dato ma quanti gliene dovevi ridare a testa con gli interessi no erano 120 il 10% ma ma il fatto che allungavi i tempi non aumentava gli interessi no 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 allora il capo dice tu ci paghi sei mesi e non allunghi tutti i 100 milioni sì 100% tu mi blocchi la spesa ti ho pagato per due o tre anni quando cambiavo si guardano in faccia e dicono sì blocchiamo blocchiamo il debito così se entro sei mesi non paghi mi dai 200 milioni poi ti porto via la casa do i 10 milioni tampono e vengo giù quando scendo c'è un paese che finisce in Canavese sempre giù da San Benzano per andare verso Santiago faccio vengo giù vedo TV Canavese ti attento cosa faccio che si vedeva a San Benzano vado dentro e gli dico senta io ho un'azienda che vende ho quella cassetta dammela facciamo approvigioni se vendi ti do quindi lì non ti compravvi lo spazio no andavate come si dice oggi a revenue share cioè revenue share non so cosa vuol dire mi piace un pezzo a testa andavo a revenue share ok gli do la cassetta per due motivi prima mi avendo fatto un altro non sovevo come andava lì una conferma secondo loro mi avrebbero visto a San Benzano in TV me lo dici perché vuol dire che gli rassicuravi ancora di più certo ok certo la casa mentre distribuisco tutte queste cassette non ti dico cosa ho guadagnato non in sei mesi in due mesi mi ricorderò sempre vado dopo due mesi e mezzo con tutti i soldi quindi con tre mesi e mezzo d'anticipo sì vado su di dico cosa c'è ci porto ancora venti no sono venuto a salvare il tutto con una soddisfazione vorrei darvi però una pacca sul muso a tutti ma ridendo vorrei darvi una pacca sul muso una volta perché magari capiamo che qualcuno magari ha sbagliato non voglio darvi lezioni di vita però siccome le ho prese con una pistola in bocca cosa c'hai questi sono tutti i soldi dopo due minuti questo nome che non dico stai attento arriva la mia macchina bianca questa è la tua macchina controlla i chilometri non hanno fatto un chilometro mi ha riveduto le chiavi e mi ha detto abiti sempre lì sì certo perché? perché ti parla una sorpresa vado giù festa ristorante paga il loro paga sulle spalle uno mi dice uè l'ho visto in tv e io la rete canadese osti però bravo vedo che eh beh nel frattempo a quel signore lì nel tornare quando ho pagato gli strozzini gli ho portato le prodigioni e devo dirti che gli ho dato metti 10 milioni io le davo il 20% 25 e non mi ho guardato almeno 30 in quel mese e mi fa uè spingo perché come vai non da te vai non da quell'altro di Materaschi ne prendi 3 vai non da te lo sai un culo della madonna ne prendi 30 ne prendi 5 bene ma con tutto vado a casa soddisfatto arriva dopo una settimana il capo dei con due macchine il capo di degli strozzini ok tu devi dire mia mamma poverina la faccia quando vedi arrivare mi dice ma tu vai ancora a giocare ma no mamma perché perché tu gliel'avevi detto ai tuoi genitori sì sì per forza e loro come l'han preso eh l'han preso che molto mare l'han preso che poi di più pensavano che la casa andava all'asta io ti portavo la casa stai con le barzellette perché voglio amarsi uno piso portare la casa insomma mettiamola come vuoi erano disperata però vedevano che mi ero inventato qualcosa e la speranza era l'ultima a morire bene vedono arrivare questa macchina mi dice mia mamma mi ricordo sul pianerotto apre la porta però la donna mi dice ma cosa è combinato guarda che sta arrivando niente mamma io non devo niente a nessuno viene su in casa il capo di questi mi dice posso prego posso mangiare con testa a zuppa bel brodone della mamma pavese con i pisarei con dentro una pasta speciale e aspetta che mia madre si alza mamma dovrei stare un attimo solo perché non capisco va bene va di là prende la pistola la mette sul tavolo e dice te lo messi in bocca io vivo di strozzilaggio ma uno che dimostrato di avere le palle come te portare i soldi tre mesi prima inventandoti qualcosa cosa che non ho capito ma di certo non vendi droga e armi ti vedo in tv e non so quanto vendi allora se prima te lo messi in bocca se vieni a giocare ti ammazzo lezione di vita incredibile e te sei molto da perdermi questo per mangiare un piatto con te per dirti questo non sono più andato a giocare entriamo nel business quindi fondamentalmente se fosse oggi con i social se tu avessi usato youtube per fare le televenite con un unico contenitore saresti arrivato a tutti mentre lì c'erano le televisioni locali e quindi dovevi appunto far girare la cassetta le cose vanno alla grande quindi tu parti fondamentalmente con il prodotto dell'idromassaggio ma immagino che poi non solo si evolveranno le cose si evolveranno i prodotti si evolveranno i guadagni anche lì da una disgrazia derivata da un prodotto è arrivata un'opportuna ancora una volta o sono bravo o avrò una stella siccome gli idromassaggi hanno passato i numeri normali di vendita in Italia proprio ho stravolto il modo perché metti che ne vendevano mille al mese io in un mese ne vendevano più di 6.500 6 volte più esigenza nazionale allora il signore Umberto Castagna di Lecco vado e mi dice non posso più darti idromassaggi ah come mai eh no perché le farmacie dicono che è un prodotto pseudosanitario ricadero e babbino e poi produce ozono no non posso allora lì mi sono inventato gli orologi non perché sono Einstein perché avevo i contratti che li visivi aperti ma non avevo più il prodotto e come li trovi gli orologi? lo spiego subito in aereo con un napoletano che erano lì ho sentito qualche articolo ma tu che fabbricai mi dice io produco orologi li importo e li distribuisco in tutto il mondo vabbè ora o stai vendendo gli orologi in tv ma non era vende orologi nazional popolare ma è padrone nessuno non so se te lo ricordi ma non ne vendo uno me lo ricordo bene non ne vendo uno allora lui era di Napoli vado a trovarlo e mi è venuta un'ispirazione di dire vendo una collezione e il napoletano mi dice ma che minghe di collezione ma quale la Repubblica Marinare questo è un orologio che rappresenta a Genova questo rappresenta Livorno questo rappresenta Napoli faccio una scattolina la raccolta della Repubblica Marinare succede un delirio ma questo uso un termine inglese un termine contemporaneo questo storytelling questa favella che ti viene in quel momento sì ti viene in quel preciso momento così naturalmente in modo spontaneo cioè tu il vestito al prodotto che magari è una roba grezza e tu la fai diventare qualcos'altro te lo inventi all'istante così mi viene poi potevano succedere ma leggo le due cose nel frattempo mentre sono a casa e mando il mondo agli orologi controllo secondo il mondo vedo il mio idromassaggio presentato da una dottoressa te lo stavo per chiedere come fa quello a perdersi tutto il giro di business che gli hai creato tu cioè mi sembrava un po' una scusa è andato nella tv e ha detto ma se questo coglione che sputa e creda mi ha venduto 6500 idromassaggi ma tu pensa io con una bella gnocca dottoressa e dice io ero lì e dico fammi vedere un nervoso però ho capito subito c'era un corpo umano dietro lei con la bacchetta e mentre andava l'idromassaggio diceva dai centri nervosi della testa partono queste piccole scosse le quali vengono sostenuta da questo ribollio dell'aria con ozono tu sei un genio ne vende due ne vende tre aveva riempito i magazzini salta all'azienda glielo ho comprata io mi chiama e mi dice non sai non gli dico che l'ho visto nel frattempo andavano gli orologi andavano bene mi chiama puoi venire il dottor Castagna può venire si vado già una bella macchinina a posto e mi dico aveva un bel Porsche Carrera complimenti prego mi dica mi dice ma sai che noi abbiamo prodotto tanti idromassaggi ma ed ho visto in televisione è andata male no ma non è il nostro lavoro mi stava se io non ho colpo degli orologi vabbè te la passo breve mi dice allora io ho lì un bicimino idromassaggi quanto ripagavo dottore vi chiedo dunque la metà cinquecenta perché tu le pagavi due e cinquanta due e settanta due e settanta ti vendevo a cinque e quaranta mi scappa niente due e settanta e il tuo se li ritiro vuole cento mila lire l'uno tu dici a lui sì se no se li ritenga tutti glielo ho presi a cento mila l'uno glielo ho presi tutti ho rimesso quindi andava l'idromassaggio e io no glielo non c'entrava niente nelle stesse televisioni facevi due prodotti nelle stesse tv in momenti diversi però certo una mattina i collettori arrivavano teleponati da una parte e dall'altra lì avevi assunto dei centralinisti dieci quindici venti quindi continuavi a affittare i tuoi spazi ti autoproducevi non davi nessuna royalty ero io ero io ormai che gestivo centralina e tutto ma avevo capito che funzionava sapete che ero io che funzionava il bappo non il prodotto perché ti faccio un esempio se ne raro che ho conosciuto è stato un grande nei mobili aiazzone grande giorgio aiazzone di cui ne mando un bacio in cielo lui nella sua pianificazione televisiva metteva ti faccio un esempio Walter Carbone nel meridione perché qua non funzionava poco poi menteva non so Mendella da un'altra parte e a secondo delle zone aveva l'empatia di chi vendeva più e meno a me succedeva che nel Trentino era il bappo in Sicilia era quello che faccia da terrone che ha avuto fortuna al nord dal nord era il milanese campagnolo che funzionava non so se mi spiego molto bene e da lì ero arrivato da un fatturato da 50 miliardi fatto sulla faccia 50 miliardi all'anno di fatturato quanti anni hai quando succede per la prima volta 40 anni 50 miliardi di cui un utile più o meno 10 sapevi gestire un'azienda o sapevi soprattutto comprare quindi trattare l'acquisto sapevi vendere vuol dire sapevi fare il Mario Mero l'ha fatto bene quindi facevi lo showman ma sapevi gestire le finanze così importanti di un'azienda o no? allora tu ti trovi esistire allora ascolto perché poi un'azienda che potremmo 50 miliardi avrebbe dovuto avere almeno 5 direttori commerciali l'ha detto alla vendita l'ha detto alla acquista l'ha detto al market l'ha detto c'eri tu le centraliniste io le centraliniste market distribuzione invenzione del prodotto distribuzione del prodotto comunicazione contratti televisivi ore e passi orari da mandare il prodotto bam 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 tutto tu e cioè per esempio la ricerca prodotto per trovare nuove cose che fossero in trend che fossero in quel momento appetibili per il mercato facevi tu io le cercavi o ti capitava e selezionavi tra quello che ti capitava no un po' mi chiamavano un po' ti passi un esempio mi chiamano a Fili sa ben dove lui mi dice quale grande magazzino ha lei vengono a trovarmi il direttore generale della Fili che parliamo di certo arrivano a Vignate dove questo campanone con i ragazzi che passiamo nei pacchi dicono quale magazzino se lei fa questo patturato con 20 ragazzi accettano e 10 che impacchettano andavo via a dormire a pacchi al giorno vendevo più del postal market e mi danno 4 elettrodomestici io bella questa è la banda dei 6 banda dei 6 sì perché la chiamano la banda dei 6 perché è una banda di elettrodomesti mi dia il prodotto che vende di meno ha riso si guarda in faccia come dice questo lo inculiamo perché abbiamo un coltello elettrico che è un mercato basso ma glielo abbiamo metti a 2.000 lire bello la vendita mia era io mi do questi 5 elettrodomestici ma attenzione uno solo al mondo l'avreste mai comprato per cagare uno solo nessuno di voi mai avrebbe pensato di comprare un coltello elettrico ma cazzo bene io ve lo do nel prezzo solo questo un desiderio che li vale tutti vendo 100.000 lotti ma non ci sono i 100.000 coltello elettrico perché la produzione Philips era di 20.000 in Europa che cazzo lo comprava io l'ho messo in un costetto appetibile e questi sono tutti fusi di testa ho fatto che era ottobre novembre dicembre vicino al camino ho preso 30.000 ordini e li ho bruciati nel camino non avevo da consegnare gli hai chiamati il primo problema la troppa vendita rovinato e lì butto via pago le tv ma non gli incassi ho venduto troppo rispetto al prodotto che avevo ero solo ma ancora peggio la cosa più eclatante e non è un pretesto io ho sbagliato se no non deve diventare un pretesto però c'è un movente ma la colpa è mia le poste italiane che si tramutano in sda bravo cosa succede sono nella malta ibiza dove incassavo 200-300 milioni al giorno mi chiama la segretaria e dice Robi 60 ma è un caso sono stato sciopero le poste giorno dopo 30 cosa vuol dire 60-30 non più 200 milioni ma di cosa 200 milioni di ordini perché l'ordine è una cosa e poi io incasso quando consegno perché c'era il contrassegno bravo ok ma ancora di più c'è un buco nel sistema informatico delle poste dove non ti davano un incasso e non rientravano i prodotti quindi mi sono trovato a spendere contratti televisivi enormi per colpa mia e a un certo punto bancarotta praudolenta ti ricordo che chi fa bancarotta è una cosa brutta quando fai poco fai due o tre anni in galera per cinque giorni però quando arrivi lì dove scoppia il bubone hai dei segnali prima per prendere dei provvedimenti non riesco a fermare la giostra contratti televisivi aperti io avevo un'azienda fatta su una persona sulla mia faccia e la bravura del vendere non era una cosa che toglievi i contratti io ho venduto così prima volta non avevi coltelli secondo rimpolpo con idromassaggio orologi le cassette su merce che ho mi si blocca le siliacole poste non ho gli incassi e non mi rientro la merce quindi in quanto tempo succede in un mese cioè in un mese da fatturare 50 miliardi ti ritrovi a mi ritrovo ad incassare non so 8 e pagarne 40 meno rispetto a tutti i costi che hai tra la materia prima il prodotto e gli spazi televisivi in un mese in un mese ti salta un'azienda tutto succede a tanti wow salta tutto allora succede che non pago una cosa non pago il produttore non ho i soldi per l'altra alcuni soldi giocati al casino rintracciabili una parte perché erano gli assegni esatto eccetera allora mi chiama il giudice e mi dice cos'altro mi chiamava le spiego le varie cose l'interno ma avevi messo la parte dei soldi no no erano tutti nel giro no 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 e rinolin sempre rinvestivi tutto poi diventavano molti di più e mi dico mi dica cosa vuol sapere no no vabbè finita qua finita qua avrà una grossa multa fiscale poi sarà un processo che non è penale che non è penale che non sarà penale io nel frattempo lavoravo a Radio Italia sono musica italiana ho fatto dieci anni il programma dal vivo e mi dicono una sera c'era televisione o in radio radio e cosa facevi bappo di sera del tempo si spera dieci anni in diretta quando dicevo un programma che andava benissimo ah quindi hai cambiato ruolo facevo sì facevi sempre lo showman ma senza vendere niente esatto vendevi sorrisi ero conduttore sì sono lì mi dice Pordinaio ci sono sette macchine della pinazza non è che ti stanno facendo scherzi a parte o stanno girando un film ma va eri molto famoso in quel momento molto famosissimo sono lì mi dice Pordinaio giù ma hai finito del set e mezza sette e mezza sì ma questi sono qua ancora chiesto di te di me adesso scendo arriva il capitale e gli dice a Roberto non mettiamo le manette ma sei in stato di fermo ma sapevi che sarebbe successo da un giorno all'altro ah no perché ti aveva detto il giudice che non sarebbe stato penale no perché oggi se vuoi ti racconto una cosa che è molto delicata e quindi me l'aveva chiesto una volta Antonio Riccio non l'ho detto oggi sono passati tanti anni e potrei potrei raccontarti la sta cosa se non ti crea problemi no 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 ma perché sono inseguito da una persona in moto giorni prima mi abbaglia mi ferma e mi dice sei disposto a darmi 5.000 euro perché perché ho quale tue carte che ti arresteranno cosa se qualcuno ti ha preso i fascicoli io gli ho dato i soldi ho preso queste cose vado dall'avvocato come vedo e gli ho detto sparisci queste sono carte segregate dal giudice ma da dove arrivano stiamo finendo in una trappola mortale mi ha detto ma la casa è bruciare questi sono i documenti del giudice che ti parla l'arresto ma come cazzo fai a averle te mi ha seguito molto poliziotto ma tu sei fuori in terra sono state prese e date per abisarmi pagando questo quindi tu hai pagato e hai preso le carte e poi le ho bruciate era una cosa troppo rischiosa pericolosa ma se rubano una condanna non ti condannano più no no le motivazioni tutto potevano dipendere come volevo ma avrebbero potuto ripartire da zero e ricostruire tutto no no te lo chiedo per ignoranza perché non lo so le ho bruciate e via quindi sapevi che da un giorno all'altro ti avrebbero arrestato bene io ho giocato nella nazionale calcio tv per 30 anni come capitano 25 anni la domenica dopo giochiamo contro i direttori di rete la domenica dopo quel giorno quel giorno giochiamo a Peschiera del Galla una partita benedica come nazionale calcio tv contro i giornalisti italiani Mentana Marazzo c'erano tutti e io a centrocampo prendo il microfono per salutare il pubblico e dico domani mi arrestano e si mettono tutti a ridere l'indomani mattina sapevo il giorno è tutto ed ero intercettato sapevo e dicevo quando mi venite a prendere vabbè detto ciò sono in radio mi vengono a prendere 6-7 macchine della pilanza mi portano a San Vittore quando succede questa cosa non passi neanche da casa? no no assolutamente come ti prelevano in quel momento come 6-6 come 6-6 io vedevo questa strada verso San Vittore dove ci ho fatto le mie notate con gli abbi che gli amici mi sembrava un film e cos'hai pensato in quel momento che ci saresti potuto rimanere per anni? non sapevo non sai cosa ti capita l'emozione che ero dietro in questa macchina con questo capitano capitano Cananza ti dico il coglione Cananza capitano della Guardia delle Finanze si capitano tutto lui in persona e quello che aveva arrestato Manna Marchi ah si ho visto nel documentario sono lì mi porta in questa cella dove di notte io e mio figlio io e mio figlio perché lavoravate insieme insieme era amministratore prende un'azienda tutti e due apre sto portone non ti dico la pesta della gente non capivo se dovessero essere bellissimo o disperato in quel momento lì devo dirti che io pensavo nella mia vita ma mai proverò ad andare in un carcere e pensare con la mia libertà del bappo così così gioiosa così vedermi chiuso in una invece ti chiudono con queste sbarre e poi c'è una porta grande così che sigilli no e sei lì e ti guardi in giro mi ricordo venerdì 17 giugno l'anno famoso che facciamo un caldo terribile e c'era questo peppino napoletano che mi ha detto devi dormire con i piedi non sul letto ma dentro il bacino cosa vuol dire dentro il bacino dentro il bacino d'acqua ah ok era la cattinella era un modo per vivere dentro con il caldo che facevo a morire quanti eravate in cella io mio figlio peppino napoletano come ti sentivi rispetto al fatto che ci fosse anche tuo figlio lì cioè ti sentivi in colpa mi piaceva per lui perché adesso cosa succede cioè una cosa lui era spaventato molto mi piangeva e tu come eri piangevo da solo quando lui non sentiva ma davanti a lui eri forte sì per forza sì anche perché mai pensavo questa cosa capito ma avevo fatto male a me stesso non a un altro non so se mi spiego cosa voglio dirti e poi arriva il giudice mi interroga dopo quanti giorni due giorni mi spiego le cose che aveva gli atti e mi ha salvato una cosa sola mi ha salvato grazie alle poste italiane perché non avendo ricevuto i soldi perché hanno bloccato il sistema informatico non ho pagato avevo fuori 3-4 miliardi non una noccioline le vi dissi come è stato possibile io meno male gli dico guardi signor Giuseppe io ero stato a Roma per chiedere i soldi alle poste come chiedere i soldi alle poste cosa c'è la posta non è un istituto bancario ma guardi che loro hanno riconosciuto e c'è un assegno di 3 miliardi e mezzo che io devo avere lei si rende conto cosa mi sta raccontando se non è così lei qua sta dentro anni hanno verificato dopo due giorni mi hanno scarcerato subito hai fatto i domiciliari o è finita niente finita nella storia della banca anche tuo figlio esce con te tutte e due nella storia della banca non esiste uno faccia 5 giorni di carcere e poi ma va bene così non ho niente da dire un mio amico che fa il giudice Piero Calabro era presidente del tribunale di Monza era molto amico mi viene a prendere e mi dice da oggi fai una penitenza enorme per me appena fuori che cosa devi giocare 5 partite io giocavo nella nazionale calcio dv nella loro squadra nella nazionale magistrale perché eri forte però a parte questo momento cioè bello viviamo tutti di una cosa il nostro patrimonio più importante è la reputazione e quindi in quel momento tu vendevi tanto perché le persone si fidavano di te perché eri un preso bene come diciamo a Milano ma poi eri bravo nel tuo cioè era tutto perfetto bravo ovviamente ci parto una cosa importante quando esci di prigione dopo questa notizia com'è la reputazione cioè come ti rimetti in piedi cosa pensa la gente di te perfetto esco ma c'era un po' di 50 tv uno a aspettarmi no? e io dico mamma mia che vergogno era venerdì una marea di taxi può arrivare alle 5 e mezza alle 6 e io ho detto non ho niente da dire non voglio ma ti senti castigato non ho niente mentre si apre la gente io non avevo i soldi neanche andare a casa no? saluto gli amici taxisti facevano la gara a chi mi accompagnava a casa vede a me papà non vede a me ma cosa succede? era un sintomo dico no magari sarà compassione arrivo a casa alla sera stessa ricevo una telefonata di Lele Mora e mi dice il tuo cachet per ospite era 3.000 domani vai a Brescia ne prendi 5 ti faccio una domanda parli di Lele Mora di cachet quindi prendiamo l'argomento del successo e facciamo un passo indietro sì quando diventi super famoso sì come vivi quella notorietà sinceramente però te lo sto chiedendo sinceramente vuol dire ti senti un supereroe ti senti un figo perdi il controllo di quello che è il tuo DNA della tua umiltà sinceramente come vivevi il successo vorrei dirtelo ma su questa è l'unica cosa che mi ha salvato tra tanti errori che posso aver fatto ho sempre vissuto il successo credi adesso ieri meno di più con molta normalità perché il mio successo era regato a un momento artistico ma il mio commerciale non era solo artistico mi impediva di avere del tempo per pensare alla libidia ero preso dalla scelta dei prodotti quindi non avevo il tempo di realizzare ma come sono famoso era una cosa che rubava il tempo all'altro la sentivi ma non te la potevi godere in quel senso no qual è il percepito che la gente ha di te in quel momento te lo dico subito vado a fare quell'ospitata quell'ospitata mi viene a prendere la macchina mi porta in questa grande discoteca a Brescia e c'erano personaggi con me famosi quindi scendiamo dalla macchina tutta la massa di gente non dirgli il perché come si erano diventate una vittima che sono le vere sono rimasto veramente allibito scioccato da questa accoglienza fuori logica capito perché anch'io degli sbagli ne ho fatti non avevo sbagliato da apposta ho sbagliato anch'io in prima persona non una cosa da galera comunque sinceramente no però è andata così io non ho più lasciato dichiarazioni non ho mai esternato contro chi o contro eccetera e da lì poi mi rimetto in gioco non faccio televendite smetti smetto e oggi le fai no oggi faccio telepromozione per i miei magazzini e dico non voglio più per televendita cosa faccio vado a dare il mondo d'agostina il titolare di odion tv nazionale e gli dico senti ho un'idea non mi fa finire di parlare mi dice vuoi un'ora nazionale tua da barter faccio io fai quello che vuoi dammi la mezzanotte hai detto da barter sì sì mi sono prodotto anche lì gli dico ho un'idea me l'ha scritta Lorenzo Beccati nel quale giocava a calcio con me che è il vice di Antonio Ricci ok ma d'altro quest'idea si chiamava il popolo della notte giravo tutte le discoteche d'Italia con la mia troupe Tonelli un caro amico che saluto ancora tuttora lavora con me a parche cosa a parche le domande ai giovani come vivono una notte ma non da psicologo droga ma da cose demenziali oppure se hai un milione di dollari oppure ti piace grasso magro e vendevo alla discoteca la presenza del bappo l'ospitata la ripresa televisiva facendo quello show quindi facendo qualcosa che non fossero foto autografia e basta no no con la ripresa e l'emissione della tua discoteca col bappo libero nazionale avrò girato 200 discoteche in Italia lo vendevo a 5 mila euro con tutto ma la cosa strana che andava in onda e mi chiamava Raimondo e mi dice guarda che io 350 mila contatti non li ho mai fatti non li ho mai fatti senza che tu mi dessi niente facevi solo divertire la gente e così da lì mi chiama Mediaset e mi dice se voglio fare la pattoria a seguire Lucignolo a seguire Mammucari a seguire Domenica in un filotto di 5-6 anni e molli la vendita dei prodotti non lo basta dopo la cosa che è successa però in quel momento basta sì non ho voluto più saperne ospitate cose eccetera dico di altro dico di altro finché un giorno mi viene un'ispirazione come quando ho fatto le tele vendite no e dico ma io dicevo in tv guarda che bello te lo mando a casa se io faccio in tv quello che faccio adesso guarda che bello vieni a comprarlo e mi sono inventato tra virgolette dei magazzini per i tesserati ok dove io ti faccio vedere e dico vieni trovi questo prodotto ti faccio la tessera omaggio l'acquisti va bim va ba ba ne ho fatto uno ne ho fatto due ne ho fatto tre ne ho fatto quattro e con questa motivazione in tv vieni ti faccio la tessera sono arrivato a quattrocentomila tesserati wow sì e come converti questa cosa cosa ne fai di questi quattrocentomila tesserati quando io ritiro degli stock grandi o dei candinerci quindi ti ributti nel mondo del prodotto sì certo ritirando appunto degli stock quindi dei quantitativi dando dei magazzini e i tesserati come li uso ritiro mille lavatrizze a prezzo buono caro tesserato la settimana della lavatrice e anziché vendoli come glielo comunichi e ho tutti il tesserato quindi mail whatsapp bla 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 mando via questi quattrocentomila nominativi e creano e se non hai la tessera non puoi entrare no ti piace entrare comunque la tessera è gratis ma poi prima o poi la fai ti dà diritto su un prezzo particolare già uno sconto particolare quindi non ci metti più la faccia per vendere tu attraverso i televenti ma fai trovare sempre le grandi occasioni esatto crei un network di utenti di persone che sono interessate ai tuoi prodotti alle tue offerte aggressive e così via e ne apri quanti negozi cioè dei magazzini giusto cioè dei negozi sono dei sono dei magazzini cioè non è aperto al pubblico no no adesso sì invece ho preso tutte le licenze perché va bene per il tesserato non possono entrare tutti un vero negozio un vero negozio sono uno per l'altro sui 1500 2000 metri quadri quindi importanti è un'azienda con 70 dipendenti quindi si è ripartito alla grande alla grande sì ti vedo molto sereno quando me lo dici quindi proprio tutte quelle sofferenze te le sei lasciate alle spalle sì sì perché guarda ti dico non devo fare il patetico né essere negativo né anche troppo positivo la gente mi ama che no però c'è una legge divina vera che se tu hai dato davvero può anche avere sbagliato in buona fede e vi dire magari ho sbagliato la gente la gente non è cogliona non è stupido lo capisce davvero ma io alcune volte sono in giro e anche ragazzi giovani che robì facciamo un selfie facciamo una foto ti faccio un esempio io sono arrivato a Lampedusa che è l'ultima isola del mondo è un'isola magnifica tu sei a te a Lampedusa ti giuro fanno e dici dov'è il bappo là mi amano mi vogliono bene ci passi molto tempo eh vado e vengo domani un mattino alle sei parto da Lampedusa ma quando vai a Lampedusa che fai? pesco pesco hai una tua nuova passione sì no la mia grande passione da sempre o da sempre solo che prima pescavo le carpe nelle cave o i cavedani o le strisce che sono sparite o i balbi controcorrente col galleggiante a piuma adesso il volentino prendo i tonnetti a galla le panamiche adesso sono in prega o il preo bandiera eh insomma ed è una libidina è una libidina vado a letto l'one e mezza mi sono un mattino alle sei ora mi appicco la barchetta vado a pescare poi il Tony mi rompe le balle no quanto stai la Perulla no ma che deve andare alle 24 domenica va bene Tony sarebbe il tuo agente sì Tony il toscano il toscano lo chiamo il toscanazzo che cura una brava persona non me ne vale e devo dire anche in questo momento ti dico non dimmi perché ma l'altimusio è una corta ancora del bappo no e io la vivo ma mica la prenomeno la figo con piacere con piacere perché con soddisfazione c'è affetto c'è stima però una cosa devo dire con tutto rispetto te ne mincia oraio 1 o quel che sia la tv anche qua e la radio è una sola e parlare con la gente è essere te dire essere te stesso è semplice ma è la cosa per alcuni più difficile capisci? cioè la gente ti paga veramente se sei vero puoi anche sbagliare ho sbagliato e va bene certo non deve ammazzare una persona o sbagliare in un modo ma gli sbagli della vita che possono capitare e gli apronti dicendo io ho sbagliato ti fa bene ti fa sentir meglio ma la gente davvero lo capisce lo capisce davvero tu oggi hai fatto un'intervista non mi hai chiesto niente prima sei andato a Rotarib mi sono anche divertito perché ti ripori delle cose che uno sente non preparate e quando la sentiranno la gente ma lo sente davvero lo avvertirà punto concludo con due punti anche tre mi hai parlato di tuo figlio e poi abbiamo parlato anche prima di cominciare cioè mentre ci stavamo scaldando mettendoci la cuffia e provando il microfono di tua figlia perché mi è piaciuto molto ti ho visto in un'intervista dove ti hanno mandato un videomessaggio e tu dicevi all'intervistatrice no ragazzi dai come per te non fatemi emozionare ho fatto lo show fino a un secondo fa adesso mi importate quello è due matrimoni diversi i tuoi due figli o la stessa moglie sì la stessa la stessa sì ci ho pensato un'altra infatti sì la stessa che una moglie che è come una sorella è mia sorella io la mia vita io sono fatto così nel rispetto di tutti ma vivo la mia lampedusa vivo i miei momenti vivo ma perché quando parliamo dei tuoi figli ti viene sempre da piangere ti rinfacci qualcosa ti rimproveri qualcosa guarda tu eri partito e sei anche in questo momento non voglio farti un complimento ma bravissimo nel senso che tu imposti un'intervista posso dire nel mio giudizio che è veramente non è una carta di palle scusa se lo dico ma è vera naturale genuina e umana e quando sei partito mi stavi già ammazzando mi stavo emozionando molto subito poi il racconto della vita mi ha portato ad essere molto più sciolto e e forse involontariamente mi ha dato forza ma se mi parli poi dei figli in una certa maniera l'orso diventa un cuore di panna perché poi in fondo io ho sofferto tanto in questa intervista ti ho detto alcune cose belle ti ho detto il calcere lo sviato quando ero rimasto senza soldi mia figlia allora avevo fatto una porcata ho perso tutto eccetera ma io ho dato sempre quello che ho preso non sarei qua a raccontartelo se no quando uno è disperato ho perso e va bene ma datti da fare voglio recuperare mia figlia sai dove mi ha ammazzato veramente ammazzato in un modo favorevole siamo rimasti senza una lira e mi dice senza una lira in casa zero mi dice papà ma non ti ha da prendere un figlio che anziché dirti ti sputa in faccia la Valentina mi dice senza togliere niente amore mi dice ma non ti preoccupare secondo me se non giochi più veramente tu hai una testa tu diventi ancora più grande e sai cosa faccio da domani mi faccio imprestare 100 euro da Marco sai cosa ha fatto non avevamo soldi il suo ragazzo faceva panini in una panina orteca mi faccio dare 100 euro ha preso la macchina ha fatto il giro del casino mi ha fatto firmare la lettera e è andata a diffidarmi con gli ultimi 100 euro che ha chiesto il suo ragazzo mi ha ammazzato una merda mi sentivo perché se tu mi approfondi cosa hai fatto disgraziato non è l'incontrario dai non preoccuparti quando sei tranquillo devo dire che con molta umiltà il tempo gli ha dato ragione ma la devo ringraziare perché senza lei non l'avrei fatto adesso mollami però ti avrei solo voluto poi se vuoi mi dai la risposta più tardi ti avrei solo voluto chiedere se avevi detto a tua figlia che la amavi tutti i giorni tutti i giorni dico a Valentina Graham io ho un'ultima domanda decido se vuoi rispondere la faccio a una persona che ha vissuto una vita piena come la tua fatta di alti e bassi si è fatto da solo ma con orgoglio tu non hai fatto del male a nessuno tu sei costruito hai distrutto con le tue mani hai ricostruito con la tua fatica e quindi puoi guardare la vita con orgoglio e guardarti allo specchio con un grande sorriso ma oggi ti chiedo hai paura della morte? Sì ci penso tutti i giorni perché amo talmente la vita e qua non ho una risposta religiosa io penso che cosa ci può aspettare perché io te stiamo parlando manca uno di noi tutto quello che abbiamo detto abbiamo fatto che senso è? io non so se è una domanda religiosa buddista ma perché noi dobbiamo chiudere gli occhi con l'universo che è innenso tante cose tante cose da raccontare tante cose vissute e perdere tutte ma può esserci un niente no non deve esserci un niente perché se non c'è un niente cosa siamo io penso che che ti aspetterà sicuramente qualcosa non so cosa ma sono talmente positivo anche con la soverenza che ha avuto ci deve e ci sarà qualcosa che ti farà ancora felice grazie Roberto ciao grazie grazie mille